E' notizia dai giornali che Roma ha ancora bisogno di soldi, è così? Ma è una situazione veramente pazzesca, il buco del bilancio di Roma è pari a 13 miliardi ormai certificato, 500 milioni all'anno li mette il governo, nel decreto Salva Roma che verrà il Senato settimana prossima c'è quindi una cifra importantissima che sono 500 milioni, ma apprendiamo dai giornali romani che domani dovrebbe esserci questo incontro del Sindaco Marino con il Presidente eletta dove il Sindaco Marino chiederà al Presidente ulteriori 500 milioni di euro e di cui, cosa pazzesca, 80 milioni per spese relative a manifestazioni e 300 milioni per il trasporto pubblico locale. Io penso che abbiamo raggiunto veramente il limite e spero che ci sia veramente una rivoluzione da parte dei nostri sindaci del Nord, oggi è stata anche l'assemblea dell'Anci, i nostri sindaci non possono essere figli di un Dio minore e quindi io incito a tutti i ribellarvi nei confronti di una posizione che è quella del Comune di Roma privilegiata rispetto ai nostri comuni del Nord che sono virtuosi.